Si è passato un giorno Un giorno dopo Ah questo si avrei di qua Capito hai visto? Ah vedi vedi che è diverso C'è anche diverso Facciamo vedere Sei professional Guarda quanto sono professional Bratto Tanto queste cose non importano mai a nessuno Allora Vedi? Ma non è lo stesso numero? Sì Sicura E questo è il cd della puntata scorsa Sì è lo stesso Solo che non mi ha dato sapere che cosa sia È tipo il numero di rost Quello che compagino a noi Allora esplode Allora siamo pronte? Sì vai vai Oggi ho questo già So che cos'è? Cos'è? Uno so già che cos'è Allora questo è il posto Oh madonna Sembra tipo Questo so già che è pescio Aspetta L'ho visto dal colore Fin da Sto trovando È per l'emozione che sai che qua c'è pescio Lo so Ma pescio ha Un ticero Ok poi andiamo avanti Siamo pronte come le figurine Ok Sì tra l'altro questa card piace a un sacco di gente Adesso tipo Lo zoom crea dei problemi al cellulare di Sara Il cellulare di Sara crea problemi Allora siamo pronte? Vai 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 Oddio che felice coppia Mi ho sposata Chi sono? Chi sono questi? I due brutti Per la cronaca chiamano loro due i due brutti Siete pronti? Sì Ah Un'altra card di gruppo La scolaresca Ma che bello Tutte felpine Ok E l'ultima Oddio Ancora ma è sempre lui no? E cosa? Quello che piaceva a te Solo che in questa foto C'era un po' strano Vabbè Ok Quindi dai Però sei contenta Sì Da una card di pesce O finora Anche il coso Ma nell'altro non c'era una card così grande Sì che c'era C'era quello che dici che è brutto brutto Ah L'opinio Non so Così strappa tutto Allora Oddio Vediamo queste foto No non so spirare Questo sembra già più artistico Io non mi sono spoilerata niente Non so che ci sta qua dentro Aiuto No lo stiamo facendo Guarda che bello Mi sta scappando una foto Ma chi è? E' pescio Guarda ma che bello Cioè se ci dico Comunque sono bellissimi Perché c'erano tante foto Wow sexy Bounder Ci sono un sacco di foto Ma che bella questa Ma ho bimbo Dito di Sara No però è Noi è venuta troppo bene Devo dire Ma è solo lui? Sì è solo orecchioni È solo orecchioni in tutte queste foto? Questo in tutte queste foto E adesso è quello di Bea Ma chi non Ok Ho disegnato pure le lentiggini Le hanno disegnato Zoom sulle lentiggini Le disegnate Che non si vendono Però vabbè Non ci sono Ah vedi C'è i numeretti Ma si è sporco Con lo smalto Sti album Guarda Cioè guarda Proprio classico Tipo un po' Nerd sfigatello Poi l'hanno messo di fianco A questo qua Super buono Ah ma l'ho fatta a posta No Stavo facendo Zoom Scusami Ah questo è il cantante Oddio Che stanno facendo Hai i capelli Justin Bieber Nei tempi migliori Questo è quello che ti piaceva? Beh è praticamente qua È già venuto medio che è una foto Sì che nella card Guarda Fai il pittore Guarda che bello Sono i tuoi prese insieme Eh ma il cantante Viene particolarmente male Poi gli hanno fatto Sti capelli Allora questi Adesso sono quelli Che non ti piacciono Sta andando via la brucia Comunque Sara Vabbè poi c'è Cioè Sony Vegas Serve a questo Metti un po' Di luminosità Quest'altro E l'altro Che non ti piace Quello brutto brutto Infatti non zoomiamo qua Guarda Guarda Non ci sono Ma non ci sono Primi piani No Guarda Non ne hanno fatto Nenco uno Di primo piano Juon Che è lui E I am Guarda Quasi mano nella mano Sono legati No Cosa è succedo? Tutto Ok Ma vi Sono tipo Mani nella mano Non lo so Ma che carini Che dormono Un'occhiata di gruppo Guarda Questo è il posterino Quel posterino è carino Però Un po' più da femmine Non so come dire Le scale Allora Un'altra foto Allora Tu tu Ti stai rifiutando di metterla a fuoco Ok Quello che piace a te è carino Cantante E sono sempre loro due Speravo fosse tu Cambio Cosa E la foto Ah no Visto Wow Qua ci sono Nell'airix Tanto questa te la possono leggere anche su internet Fine Allora Adesso abbiamo finito Aspetti Come lo vedi Ti sto prendendo del male Oddio No Ok Adesso abbiamo finito